La classe dei farmaci cosiddetti anti-PCSK9 che comprendeva due anticorpi monoclonali si è arricchita di recente con l'ingresso di un terzo farmaco che ha lo stesso bersaglio farmacologico ma che agisce con un modo diverso. Si chiama Inclisiran, è un cosiddetto sirna, quindi un farmaco che agisce sull'RNA messaggero, quindi agisce sulla codificazione della protezione che poi costituisce il PCSK9. La classe dei farmaci cosiddetti anti-PCSK9 si è arricchita di recente con l'ingresso di un terzo componente che si è aggiunto ai due anticorpi monoclonali che sono già presenti da qualche anno. Il terzo componente si chiama Inclisiran e qui al congresso dell'AMCO sono stati presentati in anteprima dei dati molto interessanti perché sono i primi dati della cosiddetta real world italiana e che ci danno delle informazioni molto interessanti e molto importanti soprattutto. Noi ne parliamo con chi questo trial ha coordinato, col dottor Furio Colivicchi che l'ha presentato appunto in anteprima due giorni fa. Allora dottor Colivicchi, innanzitutto un piccolo ripasso, cos'è l'Inclisiran, come agisce e cosa ha di diverso rispetto ai due anticorpi monoclonali? Beh l'Inclisiran è, come lei ha introdotto, una piccola catena di acidi nucleici, sostanzialmente è un RNA, un piccolo RNA, catena di acidi nucleici che interferisce con la sintesi proteica mirando, avendo come obiettivo una specifica proteina. Come agisce il farmaco? Il farmaco viene somministrato per via parenterale, una puntura sottocutanea, il farmaco entra nella circolazione, è agganciato ad una molecola aminoglicosidica, cioè dello zucchero sostanzialmente, che si chiama GALNAC. Questa molecola ha uno specifico recettore che è stato identificato a livello epatico e quindi il farmaco va direttamente al fegato. La cellula epatica lo fa entrare e libera questa catena di RNA. Questa catena di RNA si collega con un dispositivo interno alla cellula, possiamo chiamarlo, che si chiama RISC, che è una particolare molecola presente all'interno del nostro citoplasma che serve per affrontare le infezioni virali, cioè serve per eliminare l'RNA dei virus. Quindi questo RNA che noi abbiamo introdotto con il farmaco, il SIRNA, si lega a questo complesso e modula riducendola la sintesi della proteina PCSK9. Un meccanismo assolutamente innovativo e straordinario, è la prima volta che viene utilizzato nel trattamento delle malattie cardiovascolari, è già in uso per il trattamento di alcune malattie oncologiche e reumatologiche. Quindi un meccanismo che ha come riferimento la piattaforma dell'RNA molto efficace nel ridurre il tasso di produzione della proteina PCSK9. Quindi funziona in questo modo, questo è il meccanismo d'azione. E ha come peculiarità poi pratica operativa la modalità di somministrazione. Assolutamente sì. Il farmaco viene, come dicevamo, somministrato per via sottocutanea, ma la cosa eccezionale è che si fa una prima somministrazione sottocutanea, la successiva viene fatta a tre mesi, proprio perché il farmaco entrando nella cellula epatica e modificandone in parte l'attività ha una lunga durata d'azione. Quindi la seconda somministrazione viene fatta a tre mesi, quelle successive possono essere fatte a intervalli di sei mesi, quindi a regime il paziente riceve una somministrazione sottocutanea ogni sei mesi, due volte l'anno. L'aspetto importante è che questa somministrazione prevede la scheda tecnica del farmaco sia fatta in un ambiente sanitario da parte di personale sanitario sottocontrollo, quindi viene fatta abitualmente in occasione di una visita di controllo per il paziente con malattie cardiovascolari. Ecco, come lei appunto mi spiegava prima, lo studio di Real Life nasce da una precisa esigenza, nasce da considerazioni credo anche abbastanza importanti che vorrei che ci raccontassi. Allora, quando viene sviluppato un nuovo farmaco, questo farmaco va incontro ad un programma di studi clinici randomizzati e controllati, come si dice nel gergo scientifico, che servono per valutarne l'efficacia. Cosa sono questi studi? Sono degli esperimenti, sono degli esperimenti in cui il farmaco viene testato per efficacia e sicurezza nei confronti del placebo, cioè di un non farmaco, di una sostanza inerte. In questo modo noi siamo in grado di capire se quel farmaco funziona nel fare quello che noi pensiamo e speriamo possa fare e dall'altro cerchiamo di capire se può generare degli effetti collaterali, delle reazioni avverse. Quindi è un esperimento, un esperimento condotto in centri specializzati che seguono questi pazienti. Ora, quando si raggiunge la certezza che il farmaco produce degli effetti benefici per la nostra salute e che è sicuro, non ci sono problemi di nessun genere, a questo punto però si pone il problema di usarlo nel mondo, nella realtà di tutti i giorni, nei pazienti veri che incontriamo nei nostri ambulatori, non solo nel contesto di un esperimento. Allora, con Inclisinan che cosa era successo? Nel programma di sviluppo che ha raccolto informazioni di decine di migliaia di pazienti, il farmaco mostrava una certa efficacia, cioè riduceva del 50%, anzi di più 50-55% la colesterolemia LDL, quindi questo era il dato. Inclisinan riduce del 55% il colesterolo cattivo e questo lo fa senza effetti collaterali o reazioni avverse di nessun genere. A quel punto il farmaco è entrato nella pratica clinica, è stato approvato prima dall'ente europeo l'EMA e poi dalla nostra agenzia nazionale l'AIFA e abbiamo cominciato a utilizzarlo secondo delle regole ben precise tenendo conto del profilo di rischio dei nostri pazienti. E però arrivavano delle segnalazioni dall'estero, in particolare dalla Germania piuttosto che dall'Olanda, che ci raccontavano che forse l'efficacia del farmaco poteva non essere la stessa descritta negli esperimenti, nei trial, sembrava che il farmaco fosse meno efficace, 30-40%, come lei può comprendere questa è una notizia importante, cioè dobbiamo capire se è vero che il farmaco fa quello che gli studi clinici hanno detto e poi magari quando lo usiamo nei nostri pazienti non è la stessa cosa, cioè l'efficacia è minore. E quindi abbiamo cominciato a riflettere per cercare di capire che cosa era successo. Abbiamo capito che questi studi fatti in Germania e fatti in Olanda raggruppavano un numero relativamente piccolo di pazienti, parliamo di poche decine, 40-50 pazienti, ma soprattutto pazienti molto diversi da fra loro, alcuni di questi facevano delle terapie di base con statine e dezettimibe, altri non ne facevano, altri avevano fatto anticorpi monoclonali e poi li avevano interrotti, quindi erano delle popolazioni disomogenee difficili da comprendere nel loro sviluppo. E quindi ci siamo posti il problema di comprendere, beh ma se noi usiamo questo farmaco nella maniera in cui è stato usato nei trial in pazienti che abbiano la giusta terapia di background e che facciano la terapia nel modo dovuto, possiamo riprodurre i risultati del grande studio clinico? E abbiamo fatto questa operazione. E' nato quindi questo studio che avete presentato qui due giorni fa, in anteprima, uno studio, ecco mi piace sottolinearlo, è del tutto indipendente, condotto dal suo centro, non è sponsorizzato dall'azienda produttrice, non che gli studi sponsorizzati non abbiano valore, però diciamo lo studio è nato da una sua idea. Anche da una nostra idea, anche per capire, cioè quando uno usa una risorsa terapeutica, e soprattutto una risorsa terapeutica importante per il Servizio Sanitario Nazionale, deve capire se sta facendo del suo meglio, oppure se sta sprecando il tempo, il tempo proprio, il tempo dei pazienti e le risorse della nostra società. Quindi abbiamo voluto capire che cosa succedeva. Siccome noi avevamo già un certo numero di pazienti che prendevano questo farmaco, siamo andati a fare quella che è un'analisi, come si dice, retrospettiva, cioè abbiamo tirato fuori le loro cartelle cliniche e abbiamo chiesto a questi signori di valutare i loro dati e abbiamo visto una popolazione omogenea simile a quella dei trial, cioè pazienti che avevano avuto un infarto, pazienti che avevano un trattamento farmacologico di base con statine e dezettimibbe e siamo andati a vedere in questi pazienti la terapia con Inclisiran che risultati aveva prodotto. Di quanto ha ridotto il colesterolo l'Inclisiran utilizzato nella vita reale? Il 55% circa, anche qualcosina di più. Quindi abbiamo riprodotto esattamente i risultati degli studi clinici, dimostrando che se il farmaco è utilizzato come si dovrebbe correttamente fare, secondo le evidenze scientifiche già acquisite, il risultato è quello che è riprodotto in maniera assoluta. Quindi nel mondo reale Inclisiran ha la stessa efficacia che ha negli studi clinici. Se uno invece mescola le mere con le pere e fa qualche cosa che non dovrebbe fare, non dà dei farmaci che sono opportuni e necessari e usa male le risorse farmacologiche le cose non tornano, i conti non tornano mai. Certo. Lei mi spiegava anche che l'Inclisiran dà il meglio di sé, se nella terapia di base cosa ci deve essere? Tutti questi farmaci di nuova generazione, tutti questi farmaci innovativi, biologici che agiscono sulla proteina PCSK9 danno il meglio di loro, sono più efficaci se il paziente ha una terapia di base, se prende la statina di base. Perché? Perché la statina abbassa il colesterolo cattivo ma determina un aumento della proteina PCSK9. Quindi attaccando questo particolare obiettivo Inclisiran o in monoclonali aggiungono un effetto. Quindi questi farmaci, come d'altronde prevede lo schema terapeutico raccomandato dalla nostra agenzia regolatoria l'AIFA, deve essere utilizzato solo in pazienti che facciano già una terapia di background, perché lì dà il meglio di sé e lì è realmente utile ed appropriato. Bene, la ringrazio di quello che ci ha spiegato, soprattutto la ringraziano i tanti cardiologi che speriamo ci ascoltino, che l'hanno ascoltato durante la sua relazione, perché i messaggi pratici di utilizzo corretto nella vita reale sono tanti. Grazie. Grazie a lei.